Buonasera amici, finalmente siamo tornati a casa e iniziamo il sessaggio di qualche diamante guttato. Come vedete, ovviamente loro non hanno di morfismo sessuale, ci basiamo in base al canto, chi canta è maschio, chi non canta è una femminuccia. Niente, questi sono tutti i maschi che usciranno, saranno tutti portatori di Bruno, essendo la mutazione sesso legata. E proviamo a vedere chi canta, anche se ho già visto, lui è un bel maschietto, canta, un bel maschietto, anche lui dovrebbe essere un bel maschietto. Vi aggiornerò a breve, se riuscirò a formare le coppie, metterò annunci per Reggio Emilia, chiunque fosse interessato a qualche coppia. Si può anche prenotare tramite le mie pagine Facebook o direttamente al mio numero di cellulare. In questo video vi saluto, buona serata amici.